Io ero terrorizzato nel mio genitore perché a me stai sentito come Luca imporito di essere ammazzato Ne ha vita, ok Veramente, c'erano brutti chef che mi guardavano, ma non perché erano neri, eh Mi guardavano Ogni volta che qualcuno dice qualcosa di... No, ma neanche Edgy, che però... Che poi, che stai iniziando a intraprendere quel percorso guardo subito la faccia di Luca sempre che va a stare molto rilassata, molto attenta Io ho fatto una gag così ieri al supermercato perché ho insultato di brutto la giardiniera e poi ho letto il suo nome E che nome aveva? Che nome... Ah Capito Eh beh, è la marca No ragazzi, era la marca la giardiniera Luca, stai tranquillo Chiamiamo Giulia per favore, mi sa che gli sta pervenire un infarto Assoggiarsi e poi tornando a fare la ragione Grazie.